È terminato ieri al Parco della Pace di Vianas il progetto di educazione stradale che ha coinvolto la maggior parte delle classi degli istituti di scuola materna e primaria dell'Alto Garda. Circa 230 bambini hanno raggiunto il parco a piedi, in bici o con i mezzi pubblici, per poi seguire le istruzioni e gli insegnamenti dei sette agenti coordinati dal comandante Marco d'Arcangelo. Per l'occasione è stato allestito un tracciato ciclopedonale simulando quella che potrebbe essere un'esperienza quotidiana dello spostamento dei piccoli cittadini. Tra gli argomenti affrontati anche quello della corretta raccolta differenziata. Un ulteriore spazio del parco era dedicato ad informare i bambini sull'uso consapevole del mezzo pubblico. Infine, le varie classi hanno realizzato alcuni disegni a tema. Presenti alla giornata l'assessore alle politiche sociali di Arco, Silvia Girelli, il vicepresidente di comunità Carlo Pederniana e il consigliere provinciale Luca Giuliani.